Benvenuto a Paolo Sarno, Head of Wholesale Southern Europe di Aviva Investors. Iniziamo con un piccolo bilancio di come sta andando il 2019 e parallelamente, dato che siamo al Salone del Risparmio, il tema è il principe, quello della sostenibilità, come viene interpretato dalla vostra società questa tematica? Buongiorno a tutti, questo 2019 è stato molto positivo e lo è per ora, ovviamente per un tema di mercati finanziari che ha riscoperto un po' di attrattività rispetto a come è finito l'anno scorso. Nel lato nostro stiamo facendo un bel lavoro, stiamo facendoci vedere sempre più spesso e soprattutto questa nostra specificità del tema del real asset, dunque gli investimenti liquidi, prende sempre più piede anche su questo tipo di clientele che sono i promotori finanziari, i consulenti finanziari, i private banker, i family office. In tema di ESG è un tema che in Aviva Investor giochiamo da sempre, direi diciamo fin dall'anno 70, ad oggi abbiamo un team molto strutturato di 17 persone che si occupano di dare questa visione ESG agli investimenti che facciamo e stiamo, vi do uno scoop perché vi piace sempre a voi avere uno scoop, stiamo riflettendo su un'idea di lanciare dei prodotti ESG specific in diversi asset class, comunque non posso svelare di più ma appena avrò più notizie sarete primi a saperlo. Grazie.